Giornata di Consiglio regionale, oggi all'Aquila, all'emiciclo. In un momento ancora difficilissimo per l'Abruzzo a causa della situazione sanitaria relativa al Covid, con Chieti in preoccupante peggioramento e Pescara con numeri ancora alti, a tenere banco anche in regione sono proprio questi argomenti. Arrivano sul tavolo del Consiglio interpellanze e interrogazioni, tra queste quella targata PD di Antonio Blasioli. Più volte i DEM hanno parlato della situazione della campagna vaccinale in Abruzzo, anche con una conferenza stampa sui numeri delle vaccinazioni e nonostante le rassicurazioni dell'assessore alla sanità Nicoletta Veri, per l'opposizione sono troppe le cose che non vanno. Blasioli, in particolare a parte i numeri, chiede trasparenza sui criteri perché molte cose per lui non sono ancora chiare. Ogni giorno, come consigliere racconta, riceve chiamate da sindaci che non sanno nulla del piano vaccinale. Sono stati seguiti i criteri della strategia nazionale e del piano regionale della vaccinazione perché di cose ne sentiamo tantissime. In realtà vogliamo sapere proprio questo e vogliamo chiedere soprattutto trasparenza e conoscibilità del piano vaccinale. Oggi nel Consiglio regionale chiederemo questo perché non lo conosciamo ancora oggi. Ci sono dei sindaci che ci chiamano e ci dicono ma i nostri ultraottantenni sono diversi da quelli di quell'altro sindaco, di quell'altro comune? Perché ancora oggi non sanno quando inizierà da loro la campagna vaccinale. Quello che poi è accaduto a Pescara per il consigliere del PD è ancora più grave e si augura che venga fatta luce su ciò che è successo per le vaccinazioni riservate al mondo della scuola. Vengono chiamati tutti anche gli over 55 anni nonostante che non ci sia ancora la circolare del Ministero che autorizzi la vaccinazione con il vaccino di con quel vaccino appunto di AstraZeneca che non è somministrabile per loro. Avanzano quelle dosi, non vengono chiamati i professori under 55 come sarebbe stato logico ma vengono utilizzate quelle dosi per altre categorie. Quante dosi sono avanzate? Quali sono queste categorie che sono state chiamate? L'assessore Veri ha risposto in aula. Le vaccinazioni, ha detto, hanno rispettato i dettami del piano strategico. Dopo il vaccino al personale sanitario e agli ospiti delle RSA alle ASL è stata data una circolare con le indicazioni per gli ultraottantenni e quelle per la vaccinazione AstraZeneca per scuola università a forze dell'ordine personale penitenziario. Le categorie della fase 2, ha detto la Veri, ancora non sono state definite perché ci sono in corso delle interlocuzioni. L'Abruzzo ha detto è tra le prime dieci regioni per dosi somministrate su dosi consegnate. L'unica classifica che rispecchia l'andamento vaccinale risulta mettere l'Abruzzo in uno dei primi posti per gli under 80 e anche per il mondo della scuola e dell'università. Ha ribattuto per Blaseoli però si procede sempre senza dare risposte e Blaseoli insiste sul piano vaccinale da presentare in aula.